Una battaglia politica è importante per il futuro. È stata presentata la lista del PD, che cosa pensa di questi candidati? Sono una grande squadra con tante persone, uomini e donne, con professionalità diverse, tutti molto motivati perché vogliono bene alla città, vogliono bene alla città di Fano, vogliono bene alla comunità e vogliono dedicare tutti se stessi con passione e generosità a migliorarla ancora di più. In questi anni la città è cresciuta, c'è bisogno di fare ancora tantissime cose e queste persone si impegnano in prima persona, ci mettono la faccia proprio perché vogliono bene a Fano. Oggi è stata presentata la lista del PD e opinioni a riguardo. Una lista molto forte, mai avrei pensato di avere tante persone in questa lista che rappresentano dei mondi anche più diversi tra loro, ma sono forti rappresentanti di una città che vuole continuare a crescere. Sono molto orgoglioso, il PD è il motore del centro-sinistra indiscutibilmente, noi siamo una coalizione di centro-sinistra, io sono il candidato del centro-sinistra e il PD ovviamente sarà protagonista di questa campagna elettorale insieme alle altre liste, ma sarà protagonista di questa campagna elettorale che ci vedrà arrivare al prossimo 8-9 giugno in maniera forte, determinata e vincente rispetto a una destra che guarda troppo al passato. Noi non vogliamo polemiche, vogliamo ragionare del futuro in maniera tranquilla rapprontandoci con le persone anche attraverso i nostri candidati.